Allora, giovani amici di Facebook, un paio di unboxing proprio al volo che faccio qui davanti al computer senza tanti montaggi e luci perfette di due o tre cose che sono arrivate oggi che voglio farvi vedere, però non ho veramente il tempo oggi di girare un video decente Allora, il primo è questo NoFone, che è geniale, a dir poco geniale, lo trovate su denofone.com Tra l'altro non ho appena annunciato anche il NoFone Air, vedete che ce l'ha in mano, ma è talmente sottile che non si vede, mi fa molto ridere questa cosa Cos'è il NoFone? È scritto qui, the NoFone is a fake phone for people who are addicted to real phones Dietro vedete che c'è la no camera, no screen, no buttons, no battery Quindi lo vado ad aprire, ce lo guardiamo insieme, guardate che meraviglia che è, questo è il fronte del NoFone Spero che si intraveda anche il non tasto home, la non camera frontale e le non casse frontali Sul lato vediamo, spero che si veda, mi sa che vedete, ecco così si vede bene, il non tasto di accensione e i non tasti del volume Sul retro il logo NoFone con la non camera principale e anche il non flash In basso delle non casse, qui le vedete E dalla parte opposta il non tasto di accensione In realtà dalla parte opposta quindi è il non tasto di silenzioso per mettere in silenzioso il telefono Vedete come si presenta, direi molto bello Così tutto quanto nero opaco, assomiglia un po' all'iPhone 7 Che tra l'altro ho qui, lo tiro fuori della custodia Così facciamo un confronto tra il NoFone e l'iPhone 7 Mi sembra indicato Sono grandi simili, vedete, praticamente grandi uguali E sul retro anche, vedete come si presentano con la stessa tonalità, insomma di nero opaco, molto bello Ovviamente io preferisco largamente il NoFone Che è veramente uno dei telefoni migliori usciti quest'anno Quindi ve lo consiglio, thenofone.com Economico, funzionale, veramente eccezionale questo NoFone Poi, altro unboxing al volo Mi è arrivato un pacco dalla Hasbro Che sono i pacchi che preferisco Vediamo cosa mi manda Hasbro Ho una mezza idea, però in realtà aspetto varie cose Quindi non so esattamente cos'è questo Spacco tutto, cazzo Ho sparso di scotch Ho un altro po' di roba di Magic, molto bene Allora, un mega paccone di Kaladesh È piaciuto molto il nostro unboxing insieme a Giacomo Ne faremo un altro e vi mostreremo le bustine I contenuti delle bustine, mano a mano che tiriamo fuori le carte Piacciono sempre queste cose Quindi aspettatevi, finita l'ho finito adesso il mega casino per Luca Comics & Games Ci ritroveremo ancora in redazione a spacchettare delle buste di Kaladesh alla grande E poi, ah, volevo parlarvi anche dei regalini che porteremo a Luca Comics & Games Li trovate dentro allo stand di Net Addiction Sarà un mega store di Multiplayer.com In più ci sono anche, insomma, i punti d'incontro per Lega Nerd Per Movieplayer.com, per Multiplayer Per tutti quanti i siti principali del gruppo Vicino alle casse però trovate i nostri calendarietti da portafoglio Che sono questi qua, li ho fatti quest'anno al posto dei soliti adesivi Spero che vi piacciano Li trovate, insomma, di fianco alle casse Chiedete quando state comprato qualcosa Chiedete alla cassiera, ma ai calendarietti di Lega Nerd Ne abbiamo poi fatti anche una versione Limited Edition Super Limited Edition Che non posso postare su Facebook sotto forma di foto Perché altrimenti mi bannano Sono fatti in collaborazione con SegaNerd.com Che è la nostra sezione, insomma, dedicata alle belle ragazze Diciamo così, ve lo faccio vedere al volo Questa è una Limited Edition Ce l'hanno solamente i redattori di Lega Nerd Quindi quando venite a incontrarci Dalle 2 alle 3 tutti i giorni In Piazza San Giusto Dentro al Net Addiction Dome Se beccate qualcuno dei nostri redattori Oppure io, insomma, Roby, Giovanni, la Gabriella Insomma, ci siamo praticamente tutti Francesco, ci siamo veramente tutti Se beccate un redattore Ditegli voglio un calendarietto Limited Edition Ce l'hai? E lui ti darà, insomma, questo Limited Edition Mi sembra veramente al top Come dice Francesco, molto autoriale Come dice la Gabriella Bevete più latte E, insomma, ne abbiamo fatti veramente pochissimi È un po' uno scherzo, però Mi divertiva avere anche un calendario TurboFiga 2017 Piccolino da tenere nel portafoglio Molto comodo Limited Edition Solamente per Luca Comics and Games Detto tutto, per oggi ho speghettato abbastanza Ci vediamo alla prossima Ciao, giovani